Mi sono sempre chiesto cos'è questo sindrome dell'altro fantasma, ho visto dei pazienti piangere dopo l'amputazione, mi hanno detto che sentono un dolore come se mettessero la gamba persa in una cinghia o anche in un'acqua volente e questo mi ha fatto pensare adesso dovrà essere qualcosa che possiamo fare. Con l'esperienza sulla ricostruzione dei nervi ho creato in un paziente operato nel 2014 una nuova tecnica dove vado a reimpiantare dei nervi così che do a questi nervi che sono stati amputati di nuovo qualcosa da fare. Questo vuol dire che io vado a reinavare il moncone così che il paziente sente dopo l'operazione la gamba persa o la mano persa. La conseguenza è che il cervello viene ingannato a credere che la mano persa sia ancora qua e questo ci ha fatto poi vedere che questo inganno del cervello, il dolore dell'altro fantasma è sparito. Adesso sappiamo che questa tecnica che si chiama TSR, Targeted Sensory Renovation o Renovazione Mirata è veramente una bella tecnica, una bella soluzione per curare pazienti con amputazione. Vorrei portare anche questa tecnica in Sicilia, insegnarla così che i medici lo possono anche fare. Grazie. Grazie. Grazie a tutti